Nancy Brilli, sono tutti ai suoi piedi, sui social mi chiedono cose molto strane, l'attrice svela di aver rifiutato offerte politiche e parla della nuova avventura social, dove conta già decine di migliaia di follower Soprattutto feticisti, Nancy Brilli scopre Instagram e si accorge di avere innumerevoli fan dei suoi piedi Lo svela l'attrice al sito, It, in cui racconta la sua nuova avventura social Fatta soprattutto di apprezzamenti feticisti sui suoi piedi, il piacere a proposito del suo sbarco sulla piattaforma social, l'attrice spiega che si tratta del piacere della condivisione di un diario e di una personalità senza filtri Poi ascolto, che è una cosa che mi piace molto I piedi ma rivela anche un fatto insolito I tanti follower, che sfiorano oggi i 70.000, hanno infatti per lei particolari richieste Perché c'è chi la ritiene, elegante, e chi le dice, che tengo compagnia, che faccio vedere cose e posti non accessibili a tutti e che gli piaccio Ma parecchi sono fissati con i miei piccoli, pieduzzi, e la cosa mi fa molto ridere Addirittura c'è chi le chiede di mostrarli in tutte le angolazioni Gli hater pochi gli hater e come sempre, poco originali, solite e banali volgarità e provocazioni Ai maleducati tolgo la parola, agli altri rispondo con gentilezza e li saluto per nome Spesso è solo gente che non ha chi la ascolta ed è arrabbiata Icona Nancy piace molto al mondo Lei pensa di avere una spiegazione, grandi outfit, grandi capelli, grandi trucchi e grandi pene d'amore Una per la teatralità, accettazione sincera dell'altro La convinzione profonda che l'amore si prende dove c'è, e che tra adulti consenzienti tutto è lecito Lei politica non ha paura della nuova situazione politica, credo nelle persone e nella buona volontà La corruzione, l'arroganza sono sempre esistiti, e non li temo Mi stimola no perseverare nel bene Se io esisto, ci sono altri come me di sicuro Aggiunge che le è stato chiesto di entrare in politica, ma di aver rifiutato Il caso Brizzi Nancy non è stata risparmiata dal vento delle polemiche per aver difeso il regista Fausto Brizzi dall'agonia mediatica Con parole garantiste, ho semplicemente raccontato quella che era la mia personale esperienza Ma c'è sempre chi è aggressivo, chi si riconosce nell'insulto e nella maleducazione Ognuno offre quel che ha Edoardo Montolli